Oggi parliamo della comunicazione politica di Matteo Salvini alla radio, del linguaggio di Matteo Salvini alla radio. La premessa che faccio è che ogni volta che parlo della comunicazione di un politico lo faccio in maniera tecnica, cioè non mi occupo della bontà o meno della proposta politica che viene fatta, ma delle parole che vengono utilizzate volta per volta. In questo caso l'ho fatto parlando di Matteo Salvini, ma in passato mi sono occupato, come molti di voi sapranno, di Matteo Renzi, di Silvio Berlusconi, di Luigi Di Maio, della loro comunicazione politica. Oggi in particolare mi occupo di Matteo Salvini, che l'altro giorno in un'intervista radiofonica ha esordito con i conduttori dicendo questa frase Buongiorno a voi e buon viaggio a chi ci ascolta dalla macchina. Quindi questa è stata la frase che ha detto Matteo Salvini iniziando la sua intervista radiofonica. Ora, si tratta di una frase apparentemente banale, ma tanto banale da non essere scontata, perché per dire una cosa del genere il comunicatore deve fare molte cose in contemporanea. Ripetiamo la frase, la frase era Buongiorno a voi e buon viaggio a chi ci ascolta dalla macchina. Allora, il comunicatore cosa deve fare in contemporanea per arrivare a dire una frase di questo genere? Essere consapevole che non c'è soltanto lui e il conduttore o i conduttori, ma che c'è anche il pubblico che lo sta ascoltando. C'è da parlare in contemporanea sia ai conduttori che agli ascoltatori, quindi ti rivolgi prima a chi conduce e poi a chi segue da casa, in questo caso a chi segue dalla macchina. E questo, peraltro, Matteo Salvini lo fa molto spesso anche in televisione. Non so se avete presente, ma Matteo Salvini spesso in televisione sta parlando con il giornalista, poi a un certo punto guarda in camera e si rivolge direttamente alle persone che lo ascoltano da casa e usa il voi in queste formule. Poi bisogna considerare accuratamente il contesto, cioè vai in onda la mattina, quindi quest'intervista vai in onda la mattina, in questo caso andava in onda di mattina. Sai che al mattino ci sono tante persone verosimilmente in mezzo al traffico e anche se tu ti trovi in un'altra situazione, in un altro contesto, in quel caso Matteo Salvini si trovava in aeroporto e lo ha detto nel corso dell'intervista, quindi in quel momento non stai vivendo il traffico di cui parli, contestualizzi quella situazione e appena è iniziata la conversazione saluti chi ci ascolta dalla macchina. Dal punto di vista della comunicazione, questa piccolissima frase non è neutra, non è neutra, ma porta con sé tutto un mondo fatto di contatto con il pubblico. Quindi potremmo dire che qui l'idea è un po' che Matteo Salvini parli al pubblico, del pubblico e con il pubblico. Parla al pubblico perché si rivolge al pubblico, parla del pubblico perché lo cita e racconta cosa sta facendo, cioè sta viaggiando in macchina e con il pubblico perché si rivolge direttamente con il voi al pubblico. È un po' questo l'aspetto che ritorna nella comunicazione, direi, radiotelevisiva di Matteo Salvini, perché sia in radio sia in televisione questi punti ritornano. Ecco, queste sono sempre più spesso le modalità contemporanee dei giorni nostri della comunicazione politica. Ancora una volta, lo strumento della semplice osservazione di quello che viene detto, soltanto ascoltando quello che viene detto, senza spingerci in sovrainterpretazioni sul significato del messaggio che viene detto, il significato politico, questo è un altro ambito, non è l'ambito del public speaking. Ecco, soltanto osservando quello che viene detto, possiamo fare tante considerazioni tecniche, molto profonde, molto precise, come in questo caso. E la sintesi di tutto questo è che la comunicazione politica, sempre più spesso, e non è solo Matteo Salvini a farla, questa cosa parla al pubblico, del pubblico e con il pubblico.